incontriamo tutte le stelle si l'angolo è dintorno no 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 noi metti l'angolo scritto ok ragazzi tra poco devo restituire il telefono a mia mamma quindi velocissimi perché glielo regalano a natale ma che è natale? si vai ah no la cresima è vero ma io non faccio la cresima attacca ci vorrò il povere che si attacca ora tocca a lei no dai tu l'hai già incollata facciamo un po' per uno facciamo un po' per uno facciamo un po' per uno dai ellison facciamo un po' per uno e tu guarda lo stai simpatica eh facciamo un po' per uno non voglio essere simpatica la litigata di ellison e melania non voglio essere simpatica e poi passiamo un po' di colla sopra dopo si asciuga non si vede vero ragazzi? si oh è vero? si ho detto si passate un po' di colla dopo i resti di colla appunto li andiamo a togliere con c'è di colla tanto dopo questo lo andiamo a togliere ma io metto nella mano un colla che non c'è così così raga poi dobbiamo lasciare un po' di spazio perché poi c'è senza dobbiamo scrivere scritte forse allora raga ci sono alcune stelle che sono venute malissimo quindi non guardate le incolliamo lo stesso adesso però perché è niente va un secondo stiamo chiedendo il telefono però aspettate un attimo stoppiamo un attimo andiamo a prendere l'altra fotocamera un secondo andiamo a prendere la fotocamera eccoci abbiamo preso l'altra fotocamera si perché prima era scarico il telefono esatto no proprio mia mamma lo voleva quindi ho detto ciao prendiamo l'altra la polaroid quella media è la polaroid si 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 è la polaroid 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 ma perchè non c'è la metti messa? eh l'ho messa io era la più bella eh quello che hai fatto tu era la più bella grazie raga dopo quando sarà finito tutto ve lo faremo vedere eh Sara ti puoi sapere una domanda che ti chiedo da tanto? un secondo no 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 vuoi lasciatelo eccoci fammi la domanda dai Sara tu mi vuoi bene la tua magic family certo magic family attivate la campanella bene raga sono la prossima incollate anche un po' di stelle qua cioè ragazzi ho quasi finito le stelle eh valli a prendere facciate le altre tagliali ancora tu eh non so come si fa tagliali tagliali tu io ho paura di rovinarle vai ti chiedo una domanda da tanto vai fammi sta domanda tu non ti devi raviare è una domanda che ti chiedi si fammi la domanda no ah perché le chiudo eh no ma ma tu zio mi chiede la parte dove abita eh tu zio dove abita e cosa te ne fai a te e cosa te ne fai a te che ne fai a te e non te lo dico mi te lo dico a tutti scusa no te lo dico in privato scusa è una domanda così regazza no te hai avvenuto il tuo zio era questa la domanda che volevi fare regazza no te hai avvenuto il tuo zio no ok regazza vabbè possiamo stare se ne fanno le altre ah le domande sono le ritaglie no so stai mettendo il collage io le faccio le ritaglie altre ritaglie le altre ok regazza abbiamo così finito gli italiani intanto metto ancora la colla sulle pistelle intanto schiaccia schiacciamo lievamente perché si schiacciano troppo si anche la colla ce la so si ammazza il robo raga soldissimo non ci sono ancora dei che soldi raga raga poi faremo un video dello shrine vero? si un altro giorno si era questo sennò si stupe mi amo mi amo magic family si si poi faremo un video dove andremo al mcdonalds faremo tantissimi video a 10 like a 10 like c'è scoperto che tutti di voi hanno fatto video con le migliori amiche con le nonne con le zie no però dico con le migliori amiche si dai anche con le mamme le mamme si anche con le mamme le migliori amiche sono le migliori amiche si si seguite marghe giulia real kawaii kawaii sono la più silenziosa ok raga ci sono queste strelle poi vorrei vorrei l'italiano di sara strelle e eri non passa bene vorrei che nei commenti scriviate mettete un tag mettete hashtag migliori amiche e poi dovete scrivere mettere la chiocciola e taggare delle vostre amiche non si può migliori amiche su youtube ah si se c'hanno youtube su ok quindi taggate le vostre migliori amiche sotto nei commenti molto importante ci vediamo dopo che sennò aspetta raro aspetta allora per oggi il video finisce qui nooo abbiamo tagliato tante abbiamo fatto vedere no no dobbiamo scrivere le scritte ah già dobbiamo fare le scritte quindi il video non finisce qui e le scritte diciamo se le immaginano un po' tutti no ok e e e es approached sennò esatto raga se scrivere il nome della vostra amica eh cioè non proprio taggare taggare fate la chiocciola e scrivete tipo è il nome della vostra amica скalmalina le solite cose che si fanno delle frasi scriveremo Sara più Ellie più Melania perché noi ci vogliamo tanto bene, vero? sì vogliamo tanto bene un botto tantissimo, dai ci amiamo però non in quel senso non in quel senso non in quel senso, nel senso amiamo quindi posso vogliere qua Ellie ok, raga siamo pronti comunque se volete chiamare qualcuno dite rega, non raga perché fa schifo rega è più elegante poi vi dico giù in descrizione dovete andare a seguire Valerio e Mazzei dovete andare a seguire tutti Marga e Giulia Kawai vi lasciamo tutto perché loro fanno un sacco di challenge divertenti questo altro ce ne fa più riprendi, sono due sorelle una che ha otto anni e l'altra ne deve fare 13 no, tipo le conosco le conosco che me lo faccio? aspetta, non da vivo infatti lo stavo dicendo le conosco su YouTube vero che me lo stavo dicendo memoria piena non è memoria piena scusate raga raga pensavamo che c'era la memoria piena abbiamo avuto camera ok, al mio 3 diciamo tutti raga 3, 2, 1 3 è divertente boh, non lo so perché dai, stoppiamo prima che è stoppiamo, ciao ciao poi dopo ci vediamo ok raga, stiamo facendo il memoria piena scartellone allora io faccio l'ultima scartellone la mia famosa è l'ultima volta che stoppiamo cioè, se senso ora finiamo le serie facciamo le scritte e abbiamo, io ho già scritto Meli Sara che lo sta aggiustando e Ellison vedete già ora cambiamo andiamo avanti a scrivere ok ragazzi abbiamo scritto no 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 aspettate devo scrivere un'ultima s più a più m uguale a mica per sempre ma aspetti poi abbiamo scritto altre cose e la mia stessa sta scrivendo un'altra cosa guardate cosa ho nelle mani aspettate aspettate tu non sporchi il telefono ok ragazzi questo video è stato nullato